Ripartire dalla cultura per eliminare lo stalking e la violenza contro le donne è questo l'intento del forum Mai più violenza infinita Rieduchiamo la cultura, progetto della Conf Commercio Imprese per l'Italia che prevede uno studio in collaborazione con gli istituti di scuola secondaria distribuiti sul territorio italiano per individuare interventi capaci di migliorare la situazione nel bel paese come ha spiegato la criminologa e psicoterapeuta Virginia Ciaravolo Oggi noi non raccontiamo solo storie il nostro progetto importantissimo che presenteremo oggi è appunto il progetto Rieduchiamo la cultura ed è un progetto mirato agli alunni dei primi anni delle scuole superiori noi partiamo dal presupposto che il femminicidio, lo stalking, la violenza di genere è una problematica sociale e culturale noi abbiamo tutta una serie di istituzioni che funzionano, che vanno bene solo che non c'è collegamento tra di loro Ruolo fondamentale avrà il territorio di Napoli e del suo Interland tra le massime aree urbane della nazione come ha riferito Pietro Russo, presidente della Confcommercio della provincia partenopea Confcommercio che, come già ho detto prima, non deve solamente essere un'associazione di riferimento per la categoria, ma deve essere un punto di riferimento per le problematiche in genere e quindi in questa crisi economica non vorremmo che ci fosse anche una crisi di identità, di valori e quant'altro perché tutti quanti ci ricordiamo che proveniamo da popoli antichi e quindi abbiamo in nuce quella cultura e quella sensibilità che ci porta a ribellarci a un stato di fatto così, diciamo, grave Grazie Grazie Grazie